Ciao ragazzi, allora parliamo un po' di substrati perché fra qualche mese sarà già il momento di fare il rinvasio che molte persone già li stanno facendo in autunno, in inverno io aspetto, aspetto sempre la ripresa vegetativa un po' prima che la pianta parte secondo me è l'ideale, ok? molte persone mi stanno chiedendo se i substrati vanno lavati prima di essere utilizzati allora, assolutamente no, ok? sconsiglio totalmente di lavare soprattutto le miscele che ho già preparato io perché sono pronte all'uso, sono fatte apposta per avere meno sbattimento quindi già tutto è pronto, mettete giù, il substratto è perfetto per la pianta che avete funziona al 100%, funziona veramente al 100% perché sono quelli che uso io tutti i santi giorni da un bel po', ok? quindi non state anche a fare questa ulteriore operazione di lavare, setacciare, robe varie no, assolutamente no ragazzi, ok? per chi ha intenzione di usare pomice assoluta al 100% allora, primo io sconsiglio di coltivare in sola pomice, ok? per una questione di scambio cationico, quindi la pianta mangerà meno concime che noi gli diamo, ok? se gli diamo un 10, ne prende un 3, un 2, quello che è, ok? molti dicono che non è così, molti hanno mostrato che ci sono dei risultati anche sulla pomice ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ognuno va in base a quei risultati che ha, ok? io una cosa che non faccio non farò mai, anche qui la questione, se la volete usare e poi lavare a me sta benissimo, fatelo, perché io la vendo anche la pomice sfusa, no? quindi ok, io personalmente non la lavo, non l'ho mai lavata, secondo me è una cosa in più che si può fare come no però, sono tutti quei lavori che secondo me sul risultato finale contano un 2-3%, quello che volete, no? ci si spacca le ossa, con sto freddo ci si spaccano le mani, polvere dappertutto, acqua dappertutto ah, un'altra cosa ragazzi, soprattutto, è ufficiale, il mostro parte, prossimo anno non farà più parte della mia collezione praticamente adesso mi sto limitando a mantenerlo, perché è già praticamente prenotato e la pianta al 100% se ne andrà, ok? andrò a mio cliente, bar a mio amico, sono molto contento da chi andrà a questa pianta quindi tutto ok un'ultima cosa ragazzi, visto che ho notato che avete tante 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 piante sì che siano piante poi di scarso livello, scarso valore, quello che è, ok? però ragazzi, proprio per una questione di energia, ok? non sprecate tutta l'energia che avete su tutta quella roba lì, perché poi non tirate fuori niente anche se sono piante buone, tutte quante sappiate che la vostra energia è limitata, no? e anche il tempo è limitato, quindi o siete veramente molto bravi, sapete veramente fare una cosa alla volta su ogni pianta tipo una catena di montaggio, un po' come faccio io, no? prendo una pianta, faccio il video, ok? domani faccio con quell'altra, domani faccio con quell'altra là e io avrò adesso una ventina di piante per me sono tante, ok? le sto già vendendo anche altre questa è una di quelle che parte di valore che mi sarei anche tenuto volentieri solo che ho avuto la proposta, mi andava bene e via, ok? l'obiettivo per il prossimo anno è darvi altre 5 piante piante di valore, ok? ve le faccio anche vedere quelle che voglio che partano per primo, ok? mostro lo squalo è da impostare, ok? lo metterà a posto, ragazzi mostro 2 olivastro con foglia super mega piccolina a livello genetico non bisogna fare niente per farla rimpicciolire queste sono le due piante vuoi per il clima che da me qui gli olivastri non è il loro clima, ok? stanno bene al sud, secondo me li danno veramente al 100% e vuoi perché è un'essenza che a me non mi ha fatto innamorare, ok? io preferisco un olmo, un acero, un pino nero preferisco un leccione, no? perché forse ne entrerà un altro breve però ragazzi questa è l'occasione giusta per prendere e portare su una pianta di livello apprezzo è dimezzato, ok? perché lo sapete quando io metto la pianta in vendita ragazzi dopo 2-3 giorni se ne va, ok? quindi pensateci contattatemi ritiro a mano, ok? soprattutto questa forse riesco anche a spedirla un po' più piccolina però questa è già un pochettino più avanti come lavorazione bella ramificato che ragazzi quindi fate sempre poche piante ma buone per una questione di qualità e non di quantità per non perdervi e per avere un focus maggiore sui lavori che fate per fare i lavori fatti bene ok? fatti bene ragazzi dovete imparare a lavorare proprio bene sulla pianta poca roba fatta bene senza problemi se avete 10, 20, 30 piante non sarete mai veramente al top secondo me proprio a livello di energia ok? e di concentrazione soprattutto ok ragazzi ciao a tutti mi raccomando per ogni cosa scrivetemi sul mio numero diretto ok? ciao ragazzi